benvenuti in questa nuova puntata andremo ad esaminare l'anime omni oggi che è arrivato sulla piattaforma di netflix il 28 novembre 2023 analizzandolo in ogni puntata episodio numero 1 non esiste nessun personaggio storico che si chiami ono narira potrebbe essere un richiamo a arrivar narira 825 880 un noto corteggiatore e a ono nokomachi la famosa poetessa data la storia direi che in questo caso stiamo parlando dell'imperatore murakami anche se mi sembra molto fantasioso che possa avere una storia in campagna con una donna sconosciuta il nome della donna rindo fa riferimento ad un tipo di fiore la genziana scabra un fiore tradizionalmente legato all'autunno episodio numero 2 fujiwara kaneie 929 990 terzo figlio del ministro della destra fujiwara morosuke e padre di michitaka michikane e michinaga una delle sue concubine conosciute come la madre di michizuna autrice del kakeru nico era considerata una delle tre donne più belle della storia del giappone suo fratello maggiore coretata 924 932 era seisho ovvero tutore dell'imperatore eniu in carico ottenuto con l'aiuto di kaneie in seguito al cosiddetto incidente di anna del 969 nel quale erano riusciti con delle false accuse a fare stromettere dal potere minamoto takahakira che temevano potesse diventare sescio del futuro imperatore essendo zio paterno dell'erede al trono favorendo l'ascesa a imperatrice di choshi 954 982 la figlia di kaneie che sposò l'imperatore reizei e in seguito divenne madre del futuro imperatore assangio 966 1017 regno dal 1011 al 1016 quando coretata morì improvvisamente nel 962 kaneie credeva di succederli dato che l'imperatore eniu era figlio della loro sorella anshi 927 964 ma kane michi la convinse a intercedere in suo favore diventando lui kampaku ovvero reggente ed allora facendo di tutto per impedire a kaneie di fare carriere come ad esempio impedendo la seconda figlia di kaneie senshi di diventare imperatrice kane michi si amalò nel 987 e in quel frangente gli venne annunciato che si stava avvicinando il carro di kaneie ed egli credette che nonostante i loro cattivi rapporti il fratello si fosse recato a farli vista ma il carro passò oltre e si diresse a palazzo e ciò fece infuriare kane michi che pure malato dede ordine di trasferire il titolo di kampaku a fujiwara yoritada per poi morire poco dopo in seguito alla morte del fratello kaneie venne subito nominato udaijin ovvero ministro della destra iniziando a guadagnare sempre più potere tuttavia nonostante sua figlia senshi avesse dato la luce del principe yasuito nel 982 l'imperatore eniu nominò imperatrice ovvero chugo junshi la figlia di yoritada l'attuale kampaku e ciò diede inizio a un periodo di contrasto tra lui tra kaneie e eniu che si risolse nel 983 quando eniu gli assicurò che avrebbe addiccato a favore di kazan e che il nipote di kaneie sarebbe stato nominato futuro erede al trono infine kaneie nel 986 convince l'imperatore kazan che era depresso per la morte della sua amante favorita a prendere i voti e ad abdicare a favore del nipote che divenne l'imperatore ichijo 980 1011 regno dal 986 al 1011 diventando così l'uomo più potente della corte imperiale ad accompagnare l'imperatore kazan al gankeiji fu il secondo genito di kaneie michi kane che lo aveva assicurato di volersi fare monaco con lui ma che dopo che kazan si fu rasato i capelli ed aveva preso i voti religiosi se ne andò con una scusa eppure kaneie era ancora solo u daijin e perciò un sottoposto di fujiwara yoritada che era daijou daijin e di minamoto masanobu ministro della sinistra non potendo scalzarli kaneie si dimise e portò la figlia e il nipote imperatore che aveva 6 anni a vivere nel suo palazzo lo igashi san joden trasformandolo di fatto nella residenza reale nel 990 quando l'imperatore ichijo raggiunse la maggior età diciamo che la cerimonia era stata un pochino anticipata dato che aveva appena 10 anni invece dei kanodici 13 e 14 kaneie venne infine nominato kampaku ma dovette lasciare il suo posto tre giorni dopo al figlio michitaka a causa di ragioni di salute prese i voti religiosi e morì due mesi dopo tra coloro che erano al suo servizio ricordo minamoto no yorimitsu 948 1021 noto come raiko che con i suoi quattro cavalieri celesti sconfisse il demone shuten doji e altri noti demoni del folclore giapponese nella puntata si dice che egli è daijou daijin tradotto come primo ministro kino azeo 845 912 noto anche come kino nagon o kakei era un letterato e nobile di alto rango figlio di ki sadanori e padre di kino yoshimochi autore della prefazione del kokinshu nonché di kino yoshito governatore della provincia di io nell'ottocento 90 divenne capo dell'ufficio dei documenti capo calligrafo di corte e direttore dell'accademia poi nel 902 divenne direttore degli affari di palazzo e nel 911 vice consigliere di stato aveva studiato con miyako yoshika 834 879 sugawara michizane 845 903 e okura yoshiyuki 832 921 e fece da tutore all'imperatore daigo 885 930 che poi è il nonno di minamoto hiromasa la leggende dice che kino azeo fermato da uno straniero mentre una notte si ricava al palazzo abbia giocato una partita soguroku al portale su zakumon contro un demone scommettendo la sua vita anche se in altre versioni mette in palio invece il suo intero patrimonio in cambio della promessa di avere una donna dalla bellezza ultra terrena azeo vince la sfida e il demone mantiene la parola ma lo avvisa che non deve toccare la donna prima che siano passati 100 giorni azeo non riuscendo a resistere dopo 80 giorni abbraccia la donna che si trasforma in acqua circa tre mesi dopo il demone attacca azeo accusandolo di aver infratto il suo giuramento ma egli si salva recitando preghiere alla divinità kitano tenji ma in altre versioni invece lo sconfigge usando la spada la donna offerta ad azeo sarebbe stata assemblata dal demone usando parte di cadaveri di donne bellissime e trascorsi 100 giorni lo spirito infuso nel golem vi sarebbe rimasto per sempre trasformandola in una persona vera il racconto è contenuto nello emakimono o rotolo illustrato detto azeo zoshi che si ritiene risalga al quattordicesimo secolo fujiwara michinaga 966 1028 era il terzo figlio di caneie dopo che i suoi fratelli maggiori erano stati kampaku michi taka per cinque anni e michi cane per soli sette giorni morendo entrambi di malattia e credeva di succedere loro ma dovette scontrarsi con l'ascesa del figlio maggiore di michi taka suo nipote core chica che era favorito dall'imperatore ichijo e dall'imperatrice seishi mentre lui era sponsorizzato dalla madre dell'imperatore ichijo sua sorella senshi core chica venne rovinato da un pesante scandalo dato che lui e il fratello takei attaccarono l'imperatore clostrale kazan colpendolo addirittura con una freccia forse per motivi di gelosia verso una comune amante c'era chi sosteneva che tutto ciò fosse stato architettato ad arte da michinaga che dopo l'esilio di core chica nel kyushu e la morte per parte dell'imperatrice teishi nel 1001 divenne colui che deteneva il potere effettivo riuscì a fare sposare quattro delle sue figlie a degli imperatori soshi all'imperatore ichijo kenshi all'imperatore sanjo ishi all'imperatore go ichijo e kishi all'imperatore go suzaku di fatto dominò dunque la corte dal 995 al 1025 in quella che venne definita l'epoca d'oro dei fujiwara grazie anche il supporto militare di minamoto yorimitsu detto raiko e di minamoto yorinobu che erano il suo braccio armato passiamo all'episodio 3 beh in questo caso niente da aggiungere tranne che qui sei mai afferma che l'ultima volta che ha visto a scia domani questi era un uomo di 80 anni e nomina prima prima volta il rituale tai zan fukun che può allungare la vita di una persona ma non può risuscitare i morti episodio 4 mibu no tadami di cui dati di nascita e di morte sono sconosciute come il padre tadamine era un poeta e sia lui che il padre fanno parte dei 36 poeti immortali nel 954 gli fu assegnato il compito di prendersi cura del cibo dell'imperatore e nel 958 venne nominato funzionario di quarto grado della provincia di sezzo sappiamo che compose poesie per gari che si tenono al palazzo nel 954 e nel 960 la sua poesia citata nell'anime è contenuta nella raccolta shui wakashu ovvero 100 poesie di 100 poeti e venne proposta nel tentoku daeri uta awase del 960 di fronte all'imperatore murakami la notizia che mi sono innamorato è già nota a tutti nonostante abbia iniziato ad amarla in segreto senza dire nulla a nessuno il fatto che si sia suicidato dopo aver composto tale poesia ed essere stato battuto da taera kanemori è un aneddoto contenuto nel fukuru zoshi il libro delle pagine piegate ma dato che vi sono poesie scritte da lui in seguito contenute nella sua raccolta privata il tadami shu gli studiosi tendono a considerare tale informazione falsa taera kanemori morto nel 991 era un poeta del periodo eia e fa parte anche egli dei 36 poeti mortali come bimu tadami e suo padre tadamine era figlio di taira a tsuyuki e pronipote dell'imperatore koto nel 1950 venne nominato governatore provvisorio di echi zen nel 961 governatore di yamashiro e nel 937 governatore di suruga la sua poesia più famosa è proprio quella citata nell'anime pensavo di essere riuscito a nasconderlo ma il mio profondo amore mi fa rossire e la gente mi chiede a chi pensi il suo nome ricorre comunque in molti racconti aneddoti i temi proposti per il tentoku daeri utawase del 960 di fronte all'imperatore murakami erano 12 ovvero la foschia rosignolo il salice i ciliegi in fiore la rosa gialla giapponese detta carria i fiori di glicine la fine della primavera l'inizio dell'estate il fiore di delzia una specie di ortensia bianca il cuculo l'erba d'estate e infine l'amore anche se i round però furono ben 20 dato che i temi di rosignolo i ciliegi in fiore e l'amore vennero ripetuti più volte come viene detto anche nell'anime minamoto iromasa fu recitatore per il team di destra e al terzo round quello con tema all'osignolo per errore lesse la poesia sul salice e venne ripreso dal pubblico e poi pieno di vergogna lesse sì la poesia giusta ma senza riuscire a recitarla a dovere il lettore del team di sinistra era invece minamoto nobumitsu e fujiwara sanayori il sadaijin cioè il ministro della sinistra faceva da giudice per la cronaca la sfida venne vinta dal team di sinistra per il quale kanemori scrisse ben 11 poesie su 20 con 10 vittorie 5 pareggi e 5 sconfitte delle 11 poesie scritte da kanemori 4 risultarono vincenti 2 andarono in pareggio e invece egli stesso venne sconfitto 5 volte mibu notadami comunque compose ben 4 poesie per il suo team ottenendo una vittoria 2 pareggi e una sconfitta per l'ultima poesia quella dell'anime fujiwara sanayori suggerì un pareggio ma l'imperatore insistette perché decidesse un vincitore e dopo essersi consultato con il suo assistente minamoto takakira consigliere di stato che aveva sentito l'imperatore ripetere un verso della poesia di kanemori venne dichiarato vincitore quest'ultimo nell'anime si dice che nella scatola di tadami sono raccolte alcune poesie che non erano entrate nella raccolta cochin wakashu e che ognuna risaliva ad almeno 100 anni prima ma il cochin wakashu fu compilato tra gli altri anche dal padre di tadami minu no tadamine 889 948 e vi compaiono anche alcune poesie proprio di tadamine ok il video finisce qui perché altrimenti diventerebbe troppo lungo perciò anche in questo caso ho diviso l'analisi dei singoli episodi in due video in modo che sia più semplice da fruire per gli utenti vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento se volete alla prossima volta